Buonasera, buonasera da Maurizio Piondini, Circus Eventi, noi gestiamo un po' tutta quest'area food qui a Piazza Grimaldi dove devo fare tanti complimenti all'amministrazione perché veramente ho trovato una città bella, una città curata nei miei dettagli che sinceramente mi ha sorpreso perché giriamo tanto, facciamo un po' tutta l'Italia e trovare una situazione del genere qui mi ha sorpreso, anche la gente ci siamo trovati molto bene, speriamo che anche in queste serate tornerete numerosi come siete già stati fino adesso, ci troviamo qui come vi ripeto a Piazza Grimaldi fino a domenica sera, aperti anche a pranzo con tutte le specialità dello street food italiano, dalla bombetta, la zenzona, l'hamburger di manzetta e tutto quello che potete trovare di più e vi aspetto, grazie.